Ci rimangono i primi premi. Sezione scuole secondarie all'Istituto Comprensivo Bozzano di Brindisi, agli alunni della seconda E dal titolo agenti antispreco. Primo classificato nella sezione scuole secondarie di primo grado, professoressa Maria Luisa Pastorelli, docente professoressa Antonia Gentile. Il presidente del club è qui vicino a me, ha fatto un grandissimo lavoro. Grazie, assieme a Silvana. Invito l'assistente. Complimenti a tutti voi, a tutti i ragazzi, a tutti i partecipanti. Questi sono gli attestati per la classe. Prego.